Vogliamo esprimere il consenso per la mozione di Servalli. Signor Sindaco, nella sua campagna elettorale è spesso citato l'interesse, spesso parlato dell'interesse per la voce dei cittadini, interesse nei loro confronti, del primo posto che dovrebbero avere. E questo è il momento appunto di dimostrarlo. Sono qui, hanno dimostrato che partecipano e hanno dimostrato cosa vogliono, cosa desiderano, visto che non ci abita né lei e né io, secondo me è giusto dare ciò che vogliono, poi si parla di un doppio senso, semplicemente di ripristinare ciò che c'era. Ciò che mi lascia perpressa è che come sempre in queste situazioni di braccia alzate dalla parte della maggioranza per esprimere un vostro giudizio non se ne vedono, ma ormai siamo abituati. Detto questo non incontreremo a favore perché, come si sa, probabilmente 5 Stelle è la voce del cittadino che regna sovrano. E quindi speriamo che anche voi accentiate questa mozione.